Cerimonio ufficiale di conferimento dell'onorificenza ai neo-cavalieri del lavoro. Stamane la consegna di questo importante riconoscimento tra i più alti meriti nel campo dell'industria e del lavoro dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Tra i 25 cavalieri del lavoro c'è l'imprenditore Aquilino Carlo Villano, fondatore e presidente di OMI, officine meccaniche erpine, il gruppo che opera nel settore aerospaziale, noto per aver creato valore e innovazione contribuendo significativamente allo sviluppo economico e sociale della sua terra natale, l'Irpinia. Il lavoro Carlo Aquilino Villano, Industria, Aerospazio, Campania. Per me è un onore ricevere tale titolo, quale riconoscimento al lavoro di tutti questi anni e che dedico a tutti coloro che hanno lavorato e lavorano i nomi, ha sottolineato Villano, in quanto tutto questo non sarebbe stato possibile senza la risorsa umana, che è ciò su cui ogni leader, visionario e lungimirante deve sempre puntare. È amministratore unico di officine meccaniche erpine, da lui fondata nel 1983 con otto dipendenti e oggi specializzata nella produzione di componenti per i settori aerospaziali. Una cerimonia solenne e emozionante, quale importante occasione per celebrare l'ingegno, la perseveranza e l'impegno dei protagonisti del tessuto produttivo del nostro paese.